Hakuna Matata ragazzi, dopo il bug incredibile probabilmente dell'altra volta che sono jumpato dentro un cespuglio e sono spuntato da un'altra parte con un teletrasporto incredibile vi do il benvenuto in un nuovo video di Fortnite subito un bel pollicione in su per il vostro 1789 vi porto in quel che è in arena singolo di nuovo oggi a rompere i sederi almeno ci si prova, giochiamo con Jennifer Walters che poi diventerà Hulk incazzatissima paracaduce le spalle, and let's go raga tra l'altro io oggi vi voglio portare tra l'altro bellissimo in quella casina lì, che è l'altro episodio, io l'ho vista una è carinissima, due è molto particolare e ci sono anche i rift cioè, robe subsoniche raga, io non so come andare qua eh vedi questa casetta rossa questa cosina molto carina praticamente è un formicaio, si chiama la casa delle formiche è molto particolare vedi, si può entrare sia da sotto e si può entrare sia da sopra e noi proveremo a entrare da sopra anzi no, piccola rettifica, dato che ok, sotto mannaggia quella ok dai zizzi ti mori però eh eh certo, chi ti vedrà mai tra l'altro raga l'ho fatto un 80 cioè veramente per me sto ragazzo non so, meritava cioè con tutto l'amore del mondo ok per me non so, meritava se è preso meglio lui che a me però hai capito com'è? è tutta una struttura strana raga molto molto particolare come vi ho detto hanno tirato fortatili qua, hanno tirato di tutto e in più l'altra volta c'era un rift qua eccolo bam e volendo me ne posso tornare in safe ci sarebbe da ributtarsi là e vedere ci sarebbe raga però il problema è che stanno a combattere e io non ho tutta questa roba quello è morto quindi questo pusherà se questo pusha che potte ragazzi scusatemi eh per quale motivo a me giustamente giustamente ma la prendete con me è giusto ok raga un'altra persona che vuole venire va bene gioco quando c***o va va bene gioco perché non mi dovresti aver costruito qua la vedo proprio proprio brutta quello là 46 bianco lo so che mi hai visto lo so non so che mi hai visto capisco eh raga mannaccia la vostra ci stanno tutti qua mi piace perché io l'altra volta ho fatto di questo ho fatto così così ho fatto così e non è successo niente quindi raga uno non mi è morto l'avete visto sempre così tipo quanta vita ci avrà 10 grazie grazie a c***o che hai fatto bagel Grazie a tutti. Non so chi ha questo. Era un altro. Era un altro, regà. Era un ninja. Non si è capito niente. Bellissima partita. Ma rifacciamone un'altra. Ma è spawnata da un'altra parte? O magari se non ho sbagliato a metterla. No, regà. Qualcuno me lo spieghi perché io... Oggi è una giornata dove mi stanno capitando delle cose in Fortnite, regà. Ragazzi, pazzesche. Io ve lo dico, eh. Delle cose pazzesche, regà. Come delle armi pazzesche, tra l'altro. Proprio cose incredibili. E dove trovarle. Regà, questo sta qua. Ok. Ok. No, non è giusto. Ho sbagliato io. 28 di vita. Abbiamo capito che la casa di Ant-Man, perché Veronica è andata a vedere, è la casa di Ant-Man. O delle volte spona e delle volte no. O ci sono dei bug in questo momento in Fortnite. Io ce voglio riandà. Ok. Qua qualcosina ho trovato. La cassa qua la prendete così. Ci ho il fortatio. Non è che ci faccio granché. E vedo, questa qua è la casa di Ant-Man. Non l'avrei mai pensato, da essere sincero. Purtroppo, Dio Shield, regà. Dio Shield non le trovo. Face. Che messa che già c'ha. Ok. Non ho capito che cosa... Ah no, c'ha il pesce. Ok. Niente, c'è va il pesce. Questi si vanno a massacrà. Vabbè, fate cacciare. Ho lasciato un colpo. Tutti presenti? Che poi andiamo qua. non so che sei qua dentro che è il cavetto finirò mai è stato capito Mannaggia a me Mannaggia Sto a trovare un sacco di gente dispettosa Mamma mia Qualcun altro? A meno che mi portate un po' dei materiali Piano piano ce la posso fare Siamo rimasti in 15 Reganza a fascia più nessuno Eh vabbè Ok sopra sta casetta qualcuno Ci teneva tanto A prendi punti Non ci credo Ma non ci voglio credere Eh quella Quella è carina Lo devo ammettere Quella è carina Senti Nel dubbio Fammo così dai Che col pompa che c'ho Ci può fare a fare questo discorso Mannaggia a loro Raga Mannaggia È stato zitto fino all'ultimo Infatti ho detto Mo' edita Infatti no Vabbè lo io devo entrare con mitra Allora io devo farci un legno Uno sta là Due stanno là Quindi sette Sei Cinque Quattro Me ne mancano quattro All'appello Ok Ne abbiamo altri due là Quindi sono due Tre Quattro Cinque Ok Possiamo anche aggiungere In gop De nemico Ok Uno c'è un mitra Quello Quello grosso Oh te sei girato comunque eh Tacci tua Ma guarda che Antipatico 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 Che antipatia oh Ma gente così Molto forte quella mitragliatrice eh Spaventosa Però diciamo che questo qua Mi potrebbe servire a più cose So che lui è lì Posso andare via senza problemi Anzi Non è vero che Sì sono d'accordo Mirko Però occhio Va bene tutto Eri in one shot Eri in una posizione Di svantaggio Straordinaria Perché mi devi rompere le Cioè Ti avrei lasciato perdere Col seno di poi eh Facciamo che io voglio Ancora più protezione Siamo rimasti in cinque Io ho paura dei cecchini Devo essere sincero Aia Che dolore Vai vai Casca gli sopra Di quattro Io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando Pollicino in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi al prossimo appuntamento Col vostro cicciocamero89 Vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore Su forte Cicciocamero89 Vi ricordo Ancora una volta che sono live Tutte le sere Dal lunedì al veredì Dalle 20 e 30 Fino a Orario Indefinito Bella